10.30 l'appuntamento davanti al piazzale del Grezar all'inizio di via Valmaura con partenza del corteo alle 11 per poi scendere verso via Valmaura a rato della Pilleria e arrivare in Risiera. Così stamane Fabio Vallon, presidente provinciale dell'Ampia, ha illustrato ai giornalisti l'altra manifestazione che si svolgerà dopo domani 25 aprile. Come noto l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani e la CGL non prenderanno parte alla cerimonia ufficiale per l'anniversario della liberazione. L'appuntamento in Risiera inizierà alle 11 ma secondo il programma non vi sarà spazio per alcun esponente delle realtà che si collegano alla resistenza. Noi abbiamo chiesto più volte che ci fosse un oratore che potesse trarre conclusioni, testimoniare i periodi della resistenza, i valori della resistenza e della liberazione che oggi come oggi sono sempre più attuali. Da qui la decisione di dar vita non ad una contramanifestazione ma appunto ad una seconda manifestazione al termine della quale dopo l'intervento di Emilio Ricci, vicepresidente nazionale Ampi, il corteo entrerà in Risiera. Ampi e CGL hanno sottolineato stamani vogliono che questa posizione pur di rottura possa essere la base per ricostruire un rapporto. Noi vogliamo sia propositiva, vogliamo che venga data la sufficiente dignità il 25 aprile che non venga trasformata in un mero adempimento burocratico. Noi non abbiamo la pretesa di imporre a niente e nessuno su come si debba tenere quella manifestazione, la sintesi sta in capo al sindaco che ha tutto il tempo di poterla fare. Resta al momento una sostanziale chiusura da parte del comune. L'assessore Rossi dice che chi si chiama fuori da solo non può poi avanzare pretese. Il sindaco di piazza è ancora più trancham. Il 25 aprile dice non è una festa di compleanno. Grazie. 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 Grazie.